Ha compiuto cent'anni Don Probo Vaccarini, un'istituzione della Chiesa Riminese che è arrivata a farsi conoscere in tutta Italia. Lui che ha dedicato gli ultimi trent'anni della sua vita al sacerdozio, dopo la morte della sua adorata moglie Anna Maria, da cui ha avuto sette figli, quattro dei quali, si erano consacrati sacerdoti prima di lui. Il Signore nel suo imperscrutabile disegno ha pensato di donare a Don Probo tanta abbondanza di vita perché gli aveva affidato una missione. Io insisto sull'ordinarietà proprio perché questa storia bella è fatta di piccole cose, giorni, normale, con piccole persone, dove il Signore lavora nella bellezza dei nostri limiti, della nostra povertà. Alla messa preseduta dal Vescovo Lambiasi ha partecipato tutta la città. Il babbo poi è avuto spontaneo e se mi facessi prete, il padre Pio invece spingendolo con il braccio e sposati e subito. E lì è iniziato un po' il suo cammino anche di consecrazione e matrimonio. E poi dopo anche lui sacerdote, quindi ha recuperato anche l'evocazione sacerdotale alla grande. Lui ha detto, ma ormai sei in età di pensione, cosa diventi prete a fare? Poi devi fare le dimissioni subito, eccetera. Lui mi ha risposto, ma l'importante è che io possa celebrare la messa e la messa è un valore enorme per tutti. E lui, all'alba dei suoi cento anni, garantisce una cosa. E cerco di fare il meglio.